Sto bene, sono pronto, concentrato ormai da diverso tempo, devo dire, sembra che Sanremo sia iniziato tipo da un anno. No, però comunque per le nuove proposte effettivamente già con tutto quello che è stato prima, insomma, è stato un avvicinamento lento a oggi, quindi poi domani, quindi oggi che siamo alla vigilia dell'Ariston, vero e proprio, io sono pronto, non vedo l'ora di salire sul palco ogni ora che passa, è un'ora in meno a quel momento, cercherò di godermelo il più possibile, perché poi è comunque un privilegio ed è un'opportunità molto molto bella, molto molto figo, suonare con un'orchestra, quindi voglio anche divertirmi, insomma, fin dove riesco. Scopriti è nata da un momento di stasi, hai raccontato nella precedente intervista, ed è una ballad sull'amore verso se stessi, tu l'hai scoperto recentemente, che tipo di rapporto avevi con se stessa? Ma in realtà quello è molto legato a un momento in particolare, quindi in quel momento, in quel periodo, mi sentivo un po' così, un po' lontano e distante da me anche, quindi, ecco, grazie a Scopriti un po' sono riuscito a riatterrare, a ritrovarmi un po', poi secondo me non è che arrivi mai ad essere pienamente, sempre costantemente presente o felice o contento, o quantomeno se non felice o contento a stare sempre bene, no? Però, insomma, è un'altalenanza, un'alternanza di sensazioni, di stati emotivi. In quel momento c'era quello, Scopriti mi ha dato una mano per uscire da quel momento e ritrovarmi un po', sicuramente sì. Ma a chi dedicherai la performance? Cosa vorresti che trasparissi da quei tre minuti sul palco? Beh, il fatto che io voglia vivere di musica e voglia continuare a farla, assolutamente sì, e che faccio quello, e che lo faccio con compassione, sicuramente. E poi, a chi dedicherò la performance? Beh, adesso come adesso penso veramente a tutti noi, che, insomma, tutti noi intendo categoria, quindi chi è nel mondo musicale sotto tutti i punti di vista, tipo, ne so, Carlo Matagliele, quindi la dedicherei anche a Carletto, sicuramente, e poi appunto, quindi, chi lavora nell'ambito musicale, questo sicuramente. Ciao, sono Folcast, un saluto a tutti i lettori di Dire Giovani.